La uscita negata da Heisenburg, deve andare per via esterna allora l'Olanda, bella palla di Duris per Norella che sbaglia, rimbalzo di De Pater e il 6 a 0 è cosa fatta? Per muoverle la difesa e rimanere nel gioco in qualche modo, come in questo caso, sfrutti l'aggressività della difesa, la fai abbassare verso l'angolo con il taglio del lungo, la buona linea di passaggio, quel punto la difesa è scoperta naturalmente dall'altra parte, si inventano molto ravvicinate, basta sbagliarne uno, azzeccarne due nel momento giusto e ti metti in una buonissima posizione. Tutto può succedere davvero all'Europeo però indubbiamente l'Olanda parte sfavorita contro il campo, in questo momento difficile, bella partenza di Polt però poi fa vedere troppo il pallone a Smulders che glielo strappa dal palleggio, grande palla per la corsa di De Oggi non è la miglior giornata di questa Trentino Cup, torna Jozo Rados, sicuramente meno elegante ma almeno quest'oggi più efficace, già 9 punti a metterlo in difficoltà, 12 secondi per la chiusura dell'azione olandese, Worthy de Jong si butta dentro, tiro difficile ma è morbido, poi una brutta caduta di Worthy de Jong che se l'ha buttato a rimbalzo, c'è stato un contatto con la Neger involontario che però ha fatto perdere l'equilibrio a De Jong in volo, credo solo una brutta botta, andiamo a rivedere, canestro un po' trovato per strada, poi si butta e vedete, si involontario per la raggira ancora in difficoltà l'Austria, l'Olanda è molto vicina ora, Norel, finta il consigliato, poi arriva un grande assist per Worthy de Jong, grande intuizione di Henkel Norel che ha fatto credere a tutti, compreso il sottoscritto, che si trattava di una finta di passaggio consigliato, invece guardate che palla per De Jong Bella palla, dimostra Norel di essere capace di leggere le situazioni in post basso, soprattutto sempre la testa alta, se vede il raddoppio arrivare la scarica, come in questo caso se vede un buon taglio del compagno, sceglie il passaggio più efficace, perso dalla Neger in maniera abbastanza grave il tagliante, però poi quella palla... a metterla in difficoltà, 12 secondi per la chiusura della nazione olandese, Worthy de Jong si butta dentro, tiro difficile, ma è morbido, poi una brutta caduta di Worthy de Jong che si era buttato a rimbalzo, c'è stato un contatto con la Neger involontario che però ha fatto perda l'equilibrio a De Jong in volo, credo solo una brutta botta, andiamo a rivedere, canestro un po' trovato per strada, poi si butta e vedete, si involontario per la raggira... Ancora in difficoltà l'Austria, l'Olanda è molto vicina ora, Norella, finita il consigliato, poi arriva un grande assist per Worthy de Jong, grande intuizione di Henke Norella che ha fatto credere a tutti, compreso il sottoscritto, che si trattava di una finta di passaggio consigliato, invece guardate che palla per De Jong! Bella palla, dimostra Norell di essere capace di leggere le situazioni in post basso, soprattutto sempre la testa alta, se vede il raddoppio arrivare la scarica, come in questo caso se vede un buon taglio del compagno, sceglie il passaggio più efficace, perso dalla Neger in maniera abbastanza grave il tagliante, però poi con la parte...